Buongiorno a tutti e innanzitutto ringrazio gli organizzatori, sono molti se ho ben capito, di questa iniziativa alla quale tenevo particolarmente a partecipare, perlomeno perché secondo me quello di cui c'è bisogno, anche sentendo le conclusioni della professoressa concordo, che occorre essere molto preoccupati, tanto più è segreta e è poco trasparente la procedura che è stata messa in atto e tanto più, come vedete, io penso che anche quello da cui si è mosso, si è mossa l'attivazione di questa vicenda è basata su delle presunzioni e molte illusioni che proprio quelli che promuovono questa spinta all'autonomia non sono perfettamente consapevoli della dimensione di questa cosa. Allora per questo dico oggi, parlare a Milano, io dico sempre, occorre ormai parlare dell'Italia, non tanto dell'autonomia del Nord. L'autonomia del Nord sostanzialmente è un segno, per dirla con Giulio Sapelli, con cui più o meno ogni tanto ci si incontra, è un segno di disperazione del Nord, più che di richiesta di correre, come dice, la Lombardia presentò già, credo nel 2006, un disegno di federalismo fiscale, la Regione Lombarda, al Senato, che non fu mai discusso, approvato da tutte le forze politiche del Consiglio regionale, che chiudeva richiamando Lincoln, addirittura, in cui si diceva che non ha senso mettere le catene al forte per aiutare il debole, e che questo semplicemente avrebbe scardinato l'economia. Io temo che il forte si illude di essere forte e non capisce che senza il debole, cosa che in questa crisi credo sia lampante, questo forte è ridotto ad essere sempre più marginale tra i forti ai quali fa riferimento. e in questa slide, ecco, in cui parlo dello strabismo italiano, sì, sarebbe questa, devo quindi sì, no, 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 è quella successiva. è quella successiva, grazie. Ecco, in questa fase, questa è una, da semplicemente una cosa molto sintetica, io cercherò di, qui c'è una quarantina di slide, ma vorrei ovviamente, anzi, prego il moderatore di darmi i tempi. Abbiamo un quarto? Sì, sì, quindi di avvertirmi. Vedete, l'Italia nel 2001, facendo 100 il pil pro capite dell'Ox, medio di tutti i paesi, come sapete l'Ox è questa organizzazione praticamente di tutti i principali paesi al mondo, l'Italia era 108 nel 2001, nel 2013 è scesa a 88, nel 2016 è scesa ancora. Cioè l'Italia sta perdendo a livello comparativo la natura di un paese sviluppato. Cioè, se guardate la Polonia, che era 57 nel 2001, oggi è 78, e oggi no, nel 2013 era 78, cioè sei anni fa, e oggi è sostanzialmente quasi in linea con l'Italia. Cioè ci ha raggiunto. Se guardate il mezzogiorno, per far capire cosa sta succedendo dentro l'Italia, nel 2001 era 74, quindi aveva un bel distacco dal 108 medio nazionale, ma era superiore, per esempio, alla Polonia e al Cile, che era 34. Oggi il mezzogiorno è meno del Cile, 54, e molto meno della Polonia. Ricordate che il mezzogiorno e Polonia sono le due aree fondamentalmente più intensamente interessate dalle cosiddette politiche di coesione dell'Unione Europea. E anche nella prossima agenda l'Italia sarà l'area principale rispetto anche alla Polonia e non perché, per semplice il fatto che ormai l'Italia è in via di depressione, quindi in base ai parametri ha bisogno di più intervento. Tanto per capirci, oggi l'Italia, normalmente noi siamo abituati a considerare l'area delle politiche europee di coesione, come quelle della coesione, come quelle del mezzogiorno continentale più le due isole, da oggi sarà il mezzogiorno continentale e le due isole più l'Umbria, più le Marche, e l'Abruzzo che è rientrato dall'area di transizione. Quindi ormai se guardiamo l'Europa, diciamo, dove guarda le aree arretrate in cui intervenire con l'unica politica federale che ha l'Europa, perché il bilancio europeo serve per le politiche di coesione in gran parte. Beh, l'Italia è il grande malato, e il grande malato non solo per il mezzogiorno, ma anche per il nord. Scusate. Qui, vabbè, si vede male, ma tanto per farvi capire, questa è una indicazione della gerarchia delle nostre regioni nel corso del tempo. Ecco, la Lombardia, tanto per restare qui in casa, che era nel 2005, era la trentesima regione d'Europa in termini di più il procapite, oggi è la quarantatresima, cioè ha perso 13 posizioni. Il Piemonte, che era il Piemonte era la cinquantottesima regione d'Europa, oggi è la novantasettesima, ha perso, cioè, 19 posizioni, e tutte quelle del nord sono drammaticamente scese. Quelle del sud sono scese pochissimo, perché? Perché erano già ultime, sostanzialmente, e quindi l'elasticità, diciamo così, era molto bassa alla possibilità di... E così via, se guardiamo il reddito procapite. Quindi, allora, la prima illusione da togliere è che l'Italia abbia una parte forte del paese che sta trainando il paese. No, questa parte forte non sta trainando più niente. E perché non sta trainando più niente? L'Emilia Romagna, che è la più strutturata delle regioni italiane, che anche questa è cinquantesima, ormai nelle categorie, ed è quindi un'ottima regione, ben amministrata, sappiamo tutto, in realtà scende anch'essa. Guardiamo la dinamica di questo nostro paese. Da 71 all'80, mediamente, cresceva quasi al 4%. Come cresce oggi la Spagna? Non è che sono tassi di crescita, anche nonostante questa crisi fuori dal normale. L'Irlanda cresce dal 4,5%, quindi non sono più belli. L'Irlanda, che era molto indietro al mezzogiorno 20 anni fa, ormai ha superato l'Italia ampiamente. Quindi, e vedete la dinamica negli anni, 3,8, poi 2,5, poi dal 91 al 2001, e 6, dal 2001 al 2010, 0,4, dal 2011 al 2017, mediamente 0. E stiamo rischiando di tornare sotto 0, già nel 2019. Allora, pensare che questo sia un problema di autonomia di qualche regione che è liberata dal peso del sud, perché questa è la filosofia, sostanzialmente, la famosa teoria della palla al piede di Lincoln, è una folle illusione. La folle illusione è la dimostrazione di cosa è successo in questi anni di crisi. Cioè, dal 2007 al 2011, il mezzogiorno è crollato, perché per le politiche diciamo di austerità che sono state somministrate con molta più durezza al sud che al nord, di questo toccherebbe fare un'ampia discussione, ha determinato il crollo anche del nord, perché il vero grande mercato del nord è il sud. Quindi l'interdipendenza che c'è tra questi due pezzi, pensare di risolvere la crisi del nord liberandosi del sud, vuol dire suicidarsi. Il problema è capire come far sì che il nord e il sud riprendano ad avere un ruolo in questa Europa. Qui vedete la dinamica degli investimenti in opere pubbliche, il rosso è il centro nord e il blu è il sud. Ovviamente la dinamica dell'opere pubbliche era pro capite, era più elevata fino al 2000, fino al 1994 fino a che c'erano politiche di sviluppo più o meno perseguite. Poi dalla fine dell'intervento straordinario del 92 in poi c'è il crollo e con la crisi del 2007 questo crollo è accentuato. Il crollo c'è al nord e al sud in termini di PIL il nord perde l'8% del suo PIL il centro nord e il sud perde il 14% l'Italia perde appunto più o meno l'8% del suo prodotto interno lordo. Oggi mentre l'Europa della Germania della Spagna che ha avuto la crisi che ha avuto eccetera eccetera ha ampiamente recuperato i livelli del 2007 il nord ancora mancano quattro punti per recuperare quel quindi ci vorranno date le previsioni non eccezionali di crescita ci vogliono almeno quattro anni per tornare al 2007 che è un dramma detto chiaramente il sud ci vogliono più di dieci anni quindi si arriverà al 2030 che ancora il sud non ha recuperato quello che era già un risultato molto non proprio favorevole nel 2007 della sua economia allora un paese in queste condizioni dicevo prima non è molto convincente il messaggio che si dà l'autonomia rende tutti più virtuosi eccetera eccetera cioè si parla per slogan non si analizza assolutamente e poi si imputa le inefficienze il parassitismo lo spreco di risorse luoghi comuni occorre una grande operazione verità prendere i numeri analizzarli e farsi l'esame di coscienza e se facciamo l'operazione verità drammaticamente emerge che il nord si è molto meridionalizzato è molto inefficiente è molto estrattivo e dove estrae estrae le sue come dire trasfusioni dal sud ed è chiaramente un modello che alla fine ammazza il nord e il sud e se si illude con le sue esportazioni il nord non è mai andato così bene come in questi anni di crisi in termini di esportazioni guardate le dinamiche dell'export delle regioni del nord veneto compreso tutti questi è fortissimo e ha perso l'8% del suo pil cosa vuol dire vuol dire che il suo mercato non basta che il suo la competitività mondiale non basta sono eccellenti ma è un'eccellenza che è fatta di numeri sempre più piccoli e quindi basta pensare cosa è la crisi la crisi è selezione ha selezionato i migliori certo se rimangono pochi migliori in una realtà in cui la popolazione è quella che è questi migliori trascineranno poco e quello che sta succedendo è ampiamente una conferma di questo sospetto che qua da quello che ho capito non esiste allora il problema di parlarsi nord e sud è fondamentale come era fondamentale negli anni 50 quando il sud fu fondamentale per rimettere in piedi il nord e per fare il miracolo economico fu fondamentale perché esportò 6 milioni di lavoratori al nord perché fece un'industria pesante al sud senza la quale il nord non andava da nessuna parte e dal 57 con il trattato di roma ha consentito al nord di conquistare i mercati europei senza quel ruolo del sud che è stato trasformato in 20 anni per la prima volta nella storia unitaria il nord non sarebbe andato da nessuna parte di questo ci si dimentica anzi allora ci si oppose la teoria dei doppioni industriali delle cattedrale tutte delle sostanzialmente delle idiozie senza le quali in un paese non sarebbe diventato la quinta potenza mondiale oggi noi ci ancora illudiamo di essere la seconda manifattura d'Europa è veramente quasi ridicolo di fronte a quello che sta succedendo noi siamo una seconda manifattura in mani francesi in mani tedesche nella catena del valore che ha sostituito i distretti cosa vuol dire oggi catena del valore rispetto al modello dei distretti tanto decantato dal localismo lombardo veneto emiliano toscano vuol dire aver distrutto quel meccanismo che era molto interessante ma poco vitale che era il distretto industriale e oggi essersi inseriti come sub fornitori di lusso o terzisti di lusso in quella che è la cosiddetta catena del valore che oggi va tanto di moda che non si capisce che la catena del valore non è altro che mettere in gerarchia i produttori chi comanda è chi ha la testa della catena e che obbedisce a chi è nella catena poi se è molto bravo forte capace di essere lui il regista della catena ok altrimenti prima o poi diventa il suddito nella catena e noi questo stiamo vedendo progressivamente a macchia a macchia d'olio espandersi io adesso salto molte cose per arrivare all'autonomia allora l'autonomia per quello che la mia impressione è effetto della disperazione oggettiva che viene ammantata di presunzioni e illusioni inesistenti cioè rimettere in moto il nord come traenze a questo punto non c'è più neanche l'obiettivo di trainare il paese se volete la mia conclusione su che cos'è l'autonomia l'autonomia è un modo sottile non è la secessione dei ricchi non vorrebbero mai la secessione perché la secessione è insostenibile per il nord perché la secessione vuol dire gestire il debito pubblico provate a portare l'ottanta per cento del debito pubblico nei bilanci delle regioni campane eh sì Lombardia Emilia Emilia Veneto lo spread altro che a settecento arriva quindi non è questo l'obiettivo anzi tutt'altro infatti era sicuro non si parla né di federalismo fiscale né di devoluzione ma qualunque mai si sono cambiati i termini oggi si parla di una cosa che di cui non si è mai parlato il regionalismo a geometria variabile se vi interrogo che cos'è il regionalismo l'avete mai studiato eh sul federalismo ci sono stati dibattiti sulla devoluzione c'è stato un referendum il regionalismo a geometria variabile che cos'è è un modo di imbrogliare chi sottoscrive un contratto che non ha mai capito niente di queste cose perché non se ne è mai interessato e che si trova oggi per così dire formalmente connesso a questo allora venendo all'autonomia l'autonomia è prevista dalla Costituzione 116,3 va benissimo ma la Costituzione dice una cosa 116,3 nel rispetto del 119 119 è il modo come si finanzia e così e c'è una legge di Calderoli del 2009 che spiega come si attua il 119 quella legge non è mai stata attuata è quella che prevede poi Marco Esposio credo che parlerà nel dettaglio di queste cose i livelli essenziali delle prestazioni i fabbisogni standard i costi standard e quindi quella legge è fatta per far sì che ci sia il federalismo e ci sia la responsabilità di chi fa di chi entra in questo sistema ma guarda caso che di questo non se ne parla non se ne può parlare il fatto però che se ne dovrà parlare ha fatto sì che oggi questo processo di autonomia è di fatto arenato ed è solo quindi una spinta politica che porterà a un eventuale accordo e noi diciamo ormai siamo abituati da questo governo di accordo salvo intese in cui poi l'applicazione di questo accordo dipenderà una volta che il Parlamento lo approva esce tutto dal Parlamento esce dal controllo diventa una questione di contrattazione tra forti e deboli ipotetici forti e presunti deboli in realtà sono tutti deboli uno più disperato dell'altro che stanno cercando di aggrapparsi a qualche salvagente ora l'illusione qui tra l'altro vi faccio notare che nel 2009 nella legge sul federalismo fiscale c'è un capitolo dedicato a un articolo legge il 22 dedicato proprio al mezzogiorno che parla della perequazione non solo per il finanziamento dei diritti civili e sociali di cui penso parleranno molti che è cogente per cui oggi si dovrebbe andare già adesso alla corte costituzionale per dire questi diritti non sono garantiti nel paese ma c'è l'articolo 22 che parla della perequazione infrastrutturale con particolare riguardo a una preliminare analisi delle esigenze del mezzogiorno quindi per legge c'è addirittura dal 2009 noi ancora stiamo dibattendo se la clausola del 34% delle spese in conto capitale deve essere spesa ordinaria deve essere data al mezzogiorno quindi stiamo evadendo la legge da 10 anni stiamo accettando che la spesa pubblica sia in modo palesemente asimmetrico destinata per quello che vivrà negli investimenti al mezzogiorno clausa del 34% del febbraio del 2017 mai applicata e crediamo ancora di essere in un paese normale noi siamo in un paese in cui i diritti di cittadinanza sono diversi allora io credo che ormai l'obiettivo minimale perché se ne stanno rendendo conto che non potranno avere quello che Zaia o cosa declamavano il 4 di marzo avremo indietro i soldi questo hanno detto e la ministra disse sì è un fatto epocale questo non potranno averlo perché indietro i soldi a parte che non ci sono non ne hanno nessun diritto anzi dovrebbero loro restituire i soldi e quindi l'operazione verità che sta emergendo grazie a questa provocazione un po' stolta diciamo ma chiaro quando uno è forte diventa anche un po' scemo quindi il rischio è questo perché poi quando uno è forte ed è scemo è pericoloso questa è la la sintesi però è pericoloso per tutti anche per chi è forte allora veniamo al tema qual è l'obiettivo principale subito poi messo da parte perché palesemente incostituzionale e palesemente indifendibile anche di chi lo ha sostenuto con virulenza all'inizio era questa idea che noi paghiamo molte tasse riceviamo molta meno spesa delle tasse questa differenza la regaliamo al sud sostanzialmente è ora di finirla è ora di avere trattenuti sul territorio queste cose dal punto di vista di principio questa è una tesi infondata perché le tasse le pagano i cittadini e le pagano allo Stato e lo Stato ha un obbligo solo di dare i servizi sociali e civili indipendentemente dalla residenza questa è la Costituzione questo dice quindi i territori non c'entrano niente con questo fatto del residuo fiscale è una sovrapposizione di comodo in più quando fanno il calcolo del residuo fiscale non calcolano una cosa fondamentale che da vent'anni noi stiamo dicendo che dovrebbero essere inseriti il fatto che l'Italia è un paese estremamente indebitato che ha un avanzo primario cioè che spende di meno di quanto in cassa come tasse quindi c'è un avanzo è molto virtuoso però ha sempre un deficit perché? perché gli interessi che deve pagare il suo debito ampiamente sono neutralizzano questo avanzo primario da notare questi interessi che io pago per il debito fanno sì che siccome c'è un debito ulteriore io devo aumentare il debito e poi se il reddito cresce poco come in questo periodo da dieci anni a questa parte ma da molto prima cresce poco questo debito diventa esplosivo allora per cosa sto facendo questo debito per fare opere pubbliche? no io sto tagliando le opere pubbliche solo per pagare gli interessi questa in gergo si chiama Ponzi Finance cioè gioco delle tre carte io mi indebito per pagare gli interessi per pagare gli interessi aumenta il debito e ulteriormente mi indebito affinché la gente ci crede io riesco a fare a reggere quindi lo spread ha molto significato da questo punto di vista sulla sostenibilità di una situazione debitoria di questo genere ora questi interessi a chi vanno? ai possessori del debito a chi sono i possessori del debito? sono il nord detto molto in sintesi le banche del nord le famiglie del nord e l'estero allora forse al nord avrebbe detto quello che tu pensi che ti viene sottratto per darlo al sud in realtà è che tu stai pagando stai ricevendo gli interessi sul debito di cui tu sei titolare e non ne tieni conto quando parli del residuo fiscale in più le tasse le paghi perché noi dobbiamo pagare i non residenti i fondi pensione e tutti quanti quindi se facciamo bene questi calcoli quindi va bene gli interessi sul debito pubblico incassati dai residenti sono una restituzione delle tasse perché io pago le tasse per pagare gli interessi gli interessi vengono dati a chi ha debito quindi normalmente c'è una redistribuzione a favore del nord perché il nord ha l'80% del debito e non paga l'80% delle tasse quindi è già beneficiato in questo il sud che non ha grandi quote di titoli in portafoglio paga più tasse degli interessi che riceve quindi c'è già una redistribuzione appena in penalizzazione in più io devo pagare all'estero quindi se me la devo prendere con qualcuno me la devo prendere col fatto che sono indebitato in più che i non residenti hanno il 30% del debito detto in soldoni questo fa sì che il famoso residuo fiscale della Lombardia che nel 2014 viene citato in 41 miliardi si riduce a 25 miliardi del Veneto da 12 miliardi passa a 7 della Romagna dall'11 passa a 4 quindi viene molto depotenziato senza contare altri elementi che dovremmo non c'è tempo di parlarne per cui questo residuo di fatto non c'è o non ha un grande significato allora vengo semplicemente all'appurazione verità oggi quello che si tenta di fare molto sinteticamente due minuti e chiudo si tenta di dire su 23 per quello che è la Lombardia e il Veneto su 23 funzioni occorre fare questo trasferimento si dice si fa un trasferimento a costo zero cioè a saldi invariati e per illustrare la virtù di questa operazione il governo il ministro degli affari regionali ha pubblicato questa tabella spesa per abitante come si fa tornare indietro ecco questa tabella in cui se vedete nel non so se si leggono i numeri ma a questo punto è importante leggere i numeri le ultime tre righe ci dicono che l'Emilia Romagna il Veneto e la Lombardia hanno pro capite per queste famose funzioni richieste meno della Puglia della Campania eccetera eccetera c'è la Campania 3.700 euro la Lombardia ne ha 2.700 tanto perché c'è una ora questo è un imbroglio che viene facilmente smontato che però sul sito del ministero non è stato smontato quindi risulta questo ufficialmente in realtà quando andiamo a fare i conti della totale della spesa per quelle funzioni è regionalizzata e scopriamo che la Lombardia cioè il Centro Nord tanto per rimanere a pro capite con i conti pubblici territoriali che sono una come dire una fonte di informazione dello Stato quindi non è un ente a parte che fa la contabilità regionalizzando la spesa ci dice che il Centro Nord ha 13.000 euro pro capite e il Mezzogiorno ce ne ha 10.000 cioè 3.000 meno pro capite e l'Italia ne ha in media 12.000 e poi accanto c'è un altro modo sempre della ragioneria dello Stato più completa rispetto a quella tabella precedente che comunque ci conferma che comunque la calcoliamo le risorse pro capite spese per i diritti civili e sociali per quella parte che deve essere comunque finanziata indipendentemente dal reddito e dalla cittadinanza dalla residenza sono nel caso specifico in questo momento di 3.000 euro pro capite più alti come finanziamento nel Centro Nord nella Lombardia nella Venezia Giulia sono 15.000 euro nella Lombardia sono 13.000 e così via rispetto alla Campania e così via quindi se c'è un problema di redistribuzione altro che saldi variati se noi dobbiamo garantire a tutti qui c'è un problema di redistribuire dal Nord al Sud è chiaro che questo è impossibile però è chiaro che se ci deve essere una politica una tendenza deve essere redistributiva al rovescio rispetto alle aspirazioni sul controllo del residuo fiscale o tutte le argomentazioni un po' banali quindi per concludere a questo punto magari poi se ne riparli io lascio qui tutta una serie di slide che poi fanno vedere come i diritti di cittadinanza si traducono in fortissime disuguaglianze in termini di povertà in termini di distribuzione del reddito in termini di alfabetizzazione eccetera eccetera allora l'obiettivo a questo punto l'obiettivo di default diciamo di fronte a una manovra che ha aperto la stura a controllare i conti il controllo dei conti ci dice una cosa molto diversa da quelle che sono le illusioni e le presunzioni di chi propone l'autonomia e se siamo in un paese che ancora ha un senso la dinamica sarà molto diversa da quella presunta quindi se noi seguiamo il dettato costituzionale l'EP costi standard e fabbisogni standard quello che dovrebbe succedere è esattamente l'opposto di quello che loro immaginano che debba succedere allora qual è l'obiettivo a questo punto l'obiettivo credo che sarà quello di cristallizzare questa situazione che è il meglio possibile stando le cose per chi propone l'autonomia perché andare avanti su questa strada vorrebbe dire mettere in discussione l'attuale distribuzione delle risorse detto questo questo può essere anche una mediazione una volta che è chiaro che c'è qualcuno che ha un credito qualcuno che ha un debito in termini di normativa costituzionale quindi dalle due l'uno o queste regioni del nord vogliono diventare stati e si passa da un sistema allora non di federalismo ma di confederalismo dove ogni stato ha i suoi diritti i suoi doveri interni e poi con gli altri stati decide cosa fare ed è questa di fatto la proiezione del concetto di autonomia che viene da queste regioni o se non vogliamo arrivare a un sistema confederale che praticamente metterebbe l'Italia fuori da un qualche minimo potere a livello di Unione Europea e vogliamo rimanere in un sistema federale chiamiamolo pur cooperativo non solidale la solidarietà non c'entra niente si tratta di essere chiari nei patti e seri nella realizzazione in questo caso allora credo che sarebbe estremamente utile e importante che il nord e il sud ragioni in nessuna cosa ma che ne vogliamo fare di questo paese qual è la via di uscita da questa crisi dalla quale non si esce certo non si esce con l'autonomia e questo apre un altro discorso il ruolo del Mediterraneo il ruolo dell'euro mediterraneo il ruolo nostro dell'Europa nell'Europa e su questo credo che ci sono autostrade di possibilità quelle che non sono mai state messe in moto a partire dai porti dalle vere vocazioni del paese non del sud e in questo il sud diventa il secondo motore che si può affiancare a un made in italy che ormai sta esalando un po' gli ultimi respiri grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti